Io sono sopravvissuto facendo dei rock. La pronuncia mi sembra di nove mila. L'infanzia mia zocca è stata molto felice. The star is born, 1960. Mai ho aperto la porta con la chiave, sempre aperta con una spinta. Questa è la finestra nella quale vedevo la ragazza che mi ha ispirato al Bacchara. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano, con una mano di sfiori. Che sono un cattivo esempio è chiaro, questo lo voglio dire. Ci sono un cattivo esempio non seguitemi. Era l'espressione delle nuove generazioni che arrivavano negli anni Ottanta. È il periodo del sesso, droga e rock and roll. Stavo andando veramente al massimo, facevo una vita veramente di rock star. Ero pronto a sacrificare la mia vita per quell'avventura lì straordinaria che stavo facendo. Ma dove vai tanto oramai sei mia? Quando io sono andato alle scuole medie tutti ascoltavano Vasco. La cosa che mi ha colpito più di Vasco è la sua naturalezza. Mi forte! Ciao Massimo! La fine del millennio quando tutti gli amici hanno cominciato a morire intorno. Io sono andato in depressione e anche lì sono andato avanti. Ho voluto costruire la famiglia, la scelta più transgressiva che avrei potuto fare una rock star. Allora questo è Punto Radio, prove tecniche di trasmissione. Sono uscito da ogni inferno, da ogni paradiso, sempre in tempo per salire sul parco. Se si pensa io non sono solo un super vissuto, io sono un super vissuto. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!